Ciao Ricchia, compro questo bellissimo armadio, kit di montaggio, a casa, apre il libretto delle istruzioni, comincia a montare una bruggola, un gran hit, un giardo, una cosa, quindi monta questo bellissimo armadio, perfetto, 4 stagioni della manovra, tutto a posto, io lo guardo così estasiata, in quel momento lì sotto la casa sua c'è la linea del metrò, passa il metrò, che brutta sana io, mi sono sbagliato in qualche cosa, non lo so, se ne metto ancora lì, apre ancora le istruzioni, con queste chiavi a bruggola, la bruggola, l'amparella, monta tutto, monta tutto questo armadio, niente di montare, passa ancora al metrò, figa, brrr, sono sola, figa, ma siete che non sono capace, non sono capace, porca puttana, io la chiamo all'IKEA, guarda, io ho comprato un armadio stavolta, non riesco a montarlo, quella è, se vuoi, se c'è la differenza, mandiamo un operaio a montarlo, va bene, io lo mando, figa, ora io a questo operaio, guarda che è una cazzata, qui ci sono le istruzioni, i pezzi, la figa, ora c'è ancora l'inglese, la bruggola, mica la bruggola, figa, monta tutto, figa, finito di montare, ho quattro stagioni, figa, guarda, eccezionale, però a fare, guarda, robustissimo, tiene, apre, chiude, figa, figa, passa il metro, aaaaaaah, su il colore, figa, sono incredibile, la prima volta che mi succede una roba del genere, probabilmente l'errore sta all'interno, figa, adesso io via lo monto, poi vado dentro, vediamo, quando passa il metro, se c'è una vibrazione particolare, figa, però qua monta tutto, no figa, monta tutto, entra dentro, figa, si chiude dentro, in attesa, in quel momento lì arriva a casa il marito, guarda, figa che bello, eccezionale, ha fatto un affare della madonna, e lei, figa, tutta un po' in base, si, si, effettivamente, e le figa si aprono bene anche le ante, arriva l'arte, che costretti, che è a denta, e lei cosa fa qua? figa lì, guarda, fa che dica sta, ha dica gusso mogiera, fa che sa che spiega, sono di rispettare il metro, ne creda lì, grazie